E' la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Due club di prestigio uno di fronte all'altro, quando un amichevole diventa spettacolo. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto, di certo è quel che si aspettano i tifosi a corsi allo stadio. Via la gara! Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Scelgo il grande Di Maria. Un giocatore in grado di sfruttare lo spazio che gli viene concesso sul fronte offensivo per mettere in mostra tutte le sue straordinarie qualità. Io penso che proprio da lui verranno i suggerimenti più interessanti per gli attaccanti. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Leandro Paredes è l'autore del fallo. Deve solo tirare... Rabiù. Di Maria. Danilo. Chiesa. Palla dentro di Chiesa. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Sulla destra. Danilo. Parata di lui Patricio. E il portiere fa il suo dovere. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Pericolo sventato. Adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Guainaldum. Zaniolo. Spinazzola.